Una nuova tegola sta per abbattersi sulla libera circolazione tra stati europei. Da domani sarà più difficile attraversare i confini che dai paesi extra Schengen introducono nell'area di libero transito a causa dei maggiori controlli previsti dalla direttiva antiterrorismo approvata dal vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Pesanti ripercussioni sono attese anche sul confine sloveno-croato. Dopo il filo spinato spuntato per tentare di arginare le recenti ondate migratorie sulla rotta balcanica e ancora la paura, questa volta del terrorismo, a complicare spostamenti e viaggi che per molti in questa zona fanno parte della quotidianità. La polizia slovena da domani rafforzerà i controlli su chiunque vorrà entrare nell'area Schengen, compresi i cittadini comunitari. Le operazioni causeranno inevitabilmente interminabili code che si aggraveranno nel periodo estivo. Per questo la polizia ha annunciato che cercherà di ridurre le file con alcuni accorgimenti, ad esempio informando per tempo i viaggiatori su quali saranno i valichi più congestionati. Se la situazione dovesse diventare davvero insostenibile ai valichi, gli agenti cercheranno anche di velocizzare i controlli che prevedono la scannerizzazione sistematica dei documenti. Grazie.